La provincia di Padova presenta la quinta edizione di TuttoFood che si terrà a Milano dal 3 al 6 maggio. Gli agriturismi ci stanno molto a cuore, questo è evidente. Abbiamo una grandissima opportunità che è la fiera all'inizio del mese di maggio a Milano, appunto denominata TuttoFood. Abbiamo creato un lavoro di sinergia molto importante con la Camera di Commercio per dare la possibilità agli agriturismi di esporre i loro prodotti, ma non soltanto esporli ma descriverli, farli assaporare, farli degustare in maniera tale che la provincia di Padova diventi anche alla fiera di Milano protagonista come lo è stato in tante altre occasioni qui nel nostro territorio. Sono convinto che la provincia debba coordinare i territori e debba valorizzare i propri territori e sicuramente un palcoscenico importante come quello di TuttoFood con oltretutto la garanzia e la collaborazione della Camera di Commercio è una grandissima occasione che i nostri produttori non possono lasciarsi perdere. TuttoFood è una importantissima fiera internazionale a cui la Camera di Commercio partecipa insieme con il Consorzio Forexport portando una collettiva di aziende padovane e veneti di 450 metri quadrati, quindi una realtà importante nel padiglione 5 che è il padiglione istituzionale, con l'idea proprio di presentare il territorio, le nostre eccellenze, le aziende che si vogliono o che sono già aperte al mercato internazionale. Più di 20 aziende avranno il loro stand aziendale e si stanno anche organizzando per invitare i clienti, i buyers, i operatori che gli interessano per il loro business, ma accanto a questo come Camera di Commercio organizziamo anche un'area eventi che sarà un'area spettacolo con una cucina a vista dove presenteremo le migliori lecornie della nostra tradizione culinaria e dei prodotti tipici.